Per noi questo evento è un po' la sintesi dell'intreccio che vogliamo creare nel territorio del maniaghese, quindi abbiamo coinvolto queste realtà non solo di Maniago ma anche di tutta la regione proprio per dare la possibilità di farsi vedere, quindi di aprire una vera e propria inclusione sociale far vedere a un pubblico molto ampio cosa accade all'interno di queste realtà che producono degli oggetti, dei manufatti, del tutto creativi e assolutamente vicini a quello che è il senso dell'arte.